In Steven Universe appare il pianeta natale. Il pianeta natale è questo posto magnifico governato dai diamanti dove ogni gemma ha il suo ruolo. Un'utopia distopica dove ogni singola gemma ha un ruolo specifico e è stata creata per quello adora quel ruolo, adora fare quel lavoro e non saprebbe fare nient'altro meglio. Poi ci sono le eccezioni. Allora, allora, allora. Tanto per iniziare abbiamo diamante bianco, diamante giallo, diamante blu e diamante rosa. Il loro scopo è creare le gemme. Lo fanno tramite le camere di estrazione dove sudano, piangono, non lo so, entrano in contatto con l'acqua, proprio come si faceva con l'alchimia. Nell'alchimia spesso si mettevano delle gemme in acqua per fare in modo che rilasciassero i loro poteri. E beh, creano le gemme tramite quei liquidi. È stata diamante bianco la prima a creare le altre gemme. Poi il loro scopo è governare, dare delle regole e fare in modo che vengano rispettate e governano il pianeta natale tutte e quattro, una piccola tetrarchia. Poi abbiamo le perle. Le perle non sono semplicemente le gemme di rango più basso in assoluto, sono dei maggiordomi che hanno il permesso di parlare con i diamanti. Ovvio, vengono trattate come oggetti e tutto il resto, ma sono dei diamanti. Infatti hanno tutti quanti dei poteri che servono per fare da segretaria, essere al servizio, illustrare cose ai diamanti e così via. Sono completamente a loro disposizione e, beh, più che altro portano loro degli oggetti quando servono. Poi abbiamo le ametiste, i quarzi rosa, Biggs, Merletto Pazzo, Fiocco di Neve, Jasper, Agata Blu, Corniola. Sono tutti quanti dei soldati. Ognuno di loro ha un soldato specifico, che serve a qualcosa di diverso, ma sono tutti quanti soldati. Ovviamente, essendo soldati, sono inutili fuori dalla guerra. E quindi, sì, il loro scopo più che altro è conquistare nuove colonie e hanno tutti quanti dei ranghi diversi, alcune più in alto, alcune più in basso. A quanto pare le agate sono più in alto. Forse anche le morganiti hanno questo ruolo, ma non si può sapere per ora. Poi abbiamo Smeraldo, che nomina le sue 67 citrine d'elite. Nella versione italiana dice semplicemente quarzi. Perché 67 ha la guardia di una sola nave e sono d'elite? D'elite significa di un rango più alto rispetto alle altre, quindi chissà. Poi abbiamo le Topazio. Le Topazio sono delle guardie, non delle vere e proprie guardie del corpo. Sono più guardie che servono per lavori di forza, che fanno più le butta fuori e che magari sono al servizio di gemme particolarmente forti, che quindi non anche abbiano bisogno di chissà quale grande difesa, perché sono già armate. I rubini, al contrario, sono messi a disposizione di gemme che non hanno modo di difendersi, che non hanno delle armi. Delle gemme alto locate, tant'è vero che i rubini hanno il permesso di partecipare ai balli. Sono delle vere e proprie guardie del corpo d'alto rango e sono personali. Gli zafiri, invece, servono a vedere il futuro. Sono a disposizione dei diamanti, gemme di altissimo rango, che permettono loro di prevedere quello che accadrà. E potete capire che è una cosa effettivamente molto utile. Le patparaccia sono semplicemente degli zafiri usciti male. Dovrebbero vedere il futuro e invece non lo vedono. Poi abbiamo le peridot. Le peridot sono le piccole balie del pianeta natale. Loro si occupano di controllare i giardini d'infanzia, della nascita, le incubatrici, gli iniettori. Tutto ciò che comporta il creare le gemme dopo che i diamanti hanno lasciato i loro liquidi di estrazione e tutto il resto, sì. Le bismuth. Le bismuth creano edifici. No, non è un fabbro. La nostra bismuth è un fabbro, ma lei ha scelto di essere un fabbro. Il mestiere delle bismuth sul pianeta natale è quello di fare torri edifici. Lei specifica delle torri per le gemme strateghe. Gemme strateghe proprio come lo scarabio celeste e lo scarabio terrestre. Uno strateghe è quello che in guerra decide chi deve fare cosa e dà consigli ai comandanti per scegliere l'azione migliore per poter vincere. Poi abbiamo le lapislazzoli. Le lapislazzoli devono terraformare. Sono gemme di altissimo rango che scendono probabilmente per prime su un pianeta e iniziano a modificarlo. Spostano l'acqua a montagne, vulcani e fanno in modo che il pianeta sia il più adatto possibile o alla guerra, all'invasione che sta per arrivare, oppure alle costruzioni che il pianeta natale ha deciso di fare su quel pianeta. Purtroppo ci sono delle gemme di cui ancora non conosciamo l'utilità come Occhio di Tigre, Larimar, Berillo, Serpentina. Altre invece abbiamo degli indizi molto chiari come Smeraldo, Essonite e Nefrite. Sono tutti e tre piloti. Piloti di navicelle. Le Nefriti probabilmente servono per invasioni, vengono mandate in gruppo e si gestiscono fra di loro per collaborare. Al contrario delle Essonite che probabilmente sono più specifiche per delle missioni e quindi servono a fare certe cose, a ottenere certi risultati in guerra, a recuperare il prisma di luce e cose del genere. Gli Smeraldi, boh, boh, parla di navi veloci e così via, quindi potrebbero essere delle pilote in generale. Ma abbiamo visto che anche altre gemme sono in grado di pilotare, fra cui le perle, i diamanti stessi. E quindi a che cosa servono gli Smeraldi a pilotare in qualche occasione specifica? Quale? Boh! Poi abbiamo le Giade. Le Giade hanno lo scopo di intrattenere i diamanti. Sono quelle che partecipano ai balli e ballano per loro. Sono gemme d'altissimo rango, molto molto apprezzate e che hanno il permesso di stare al cospetto dei diamanti. Non come le Nefriti, che fanno parte di un tipo di Giada completamente diverso, ma solo le Giade di tutti i tipi. Ed è probabile che le Giade siano le uniche ad essere effettivamente a conoscenza della musica. Oltre, beh, alla Gemma Organo che ha come scopo quello di fare musica e, beh, tutte le Gemme che partecipavano al ballo, fra cui, beh, avete capito. Gli Zerconi. Gli Zerconi servono a fare da Avvocati. Gli Zerconi sono dei piccoli Soul Goodman che risolvono i problemi delle Gemme. Vengono assegnati. Probabilmente ce ne sono alcuni d'ufficio, alcuni privati, chissà come funziona, però sono Avvocati, servono durante i processi. Poi abbiamo le Acquemarine. Le Acquemarine, diciamo, che sono Gemme di altissimo rango al servizio dei diamanti, che forse fanno da segretaria, a volte magari da velina. E quindi si occupano di controllare che gli ordini dei diamanti vengono eseguiti e fanno da velina e basta. Abbiamo i Sassolini. I Sassolini realizzano ogni desiderio del diamante. Sono dei piccoli, ecco, tuttofare, dei piccoli Factotum che fanno qualsiasi cosa il diamante voglia in quel momento. E poi abbiamo Oro, Pirite, Demantoide, Piropo e Morganite che vengono nominati, ma non viene mai specificato quale possa essere il loro ruolo e non abbiamo il minimo indizio, di nuovo. Poi abbiamo Lerutilo. Non sappiamo a che cosa servono Lerutilo, perché l'abbiamo visto fare da piloti, ma non è detto che quello sia il loro ruolo. Forse servono a fare da esploratrici, visto che è quello che facevano per le off-color in origine e che sanno fare luce con la loro gemma. Una cosa abbastanza particolare. Poi abbiamo visto delle gemme che fanno da piramide, da ponte, da muro, da statua, da organo a pettine. E beh, ormai sappiamo che tutte queste sono gemme senzienti e che il loro ruolo è questo. Poi abbiamo Il Vetro del Deserto. Il Vetro del Deserto continua a trasformare i luoghi, quindi è possibile che li facesse secondo una logica, forse durante le guerre, cambiare continuamente l'assetto del campo di battaglia per far vincere i propri... ecco... Ehm... sì, non può essere... non lo so. Poi abbiamo tutte quante le gemme corrotte che non ho nominato e chissà che cosa servivano loro. È possibile che magari il verme che Steven e Connie hanno incontrato, visto che era così attirato delle cose scintillanti e luminose, fosse una specie di orafo. Magari era un controllo qualità dei giardini d'infanzia, chi lo sa. Voi siete d'accordo su tutto questo? Pensate che certe gemme abbiano in realtà un'altra utilità? E qual è secondo voi l'utilità delle varie gemme corrotte che, beh, non sappiamo ancora che cosa facciano? Grazie a tutti. Ecco